segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te benvenuto monsignor vincenzo paglia bentornato presidente la pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del pontificio istituto giovanni polo secondo per gli studi su matrimonio e famiglia sempre con noi nando pagnoncelli ipsos buonasera nando allora signore lei stasera è qui da noi per parlare di anziani vedremo che ci sono novità su un tema che stiamo seguendo da tempo però non può non aver sentito poco fa pietro orlandi la sua richiesta di conoscere la verità sulla fine della sorella emanuela a 40 anni da rapimento e dalla scomparsa non possiamo non chiederle che idea si è fatto di una vicenda che arriva fin dentro il vaticano guardi io non conosco bene detto nel dettaglio la situazione come sia avvenuta capisco il dolore dei familiari che va compreso accompagnato finalmente c'è una commissione d'inchiesta io la farei lavorare bene perché la giustizia faccia il suo compimento certo rimane il dramma ma una giustizia che arriva sino alla fine lenisce e dà anche più sicurezza giuste parole consigliore allora veniamo al suo lavoro sul tema degli anziani lei ha presentato anche qua da noi una legge delega a favore della popolazione anziana e che era stata preparata a due commissioni volute il governo guidate da lei era una novità ne abbiamo parlato il parlamento italiano ha approvato questa legge delega all'unanimità come è stato possibile ma è stato possibile perché finalmente tutti i parlamentari hanno compreso che il tema della vecchiaia è un tema che ci riguarda tutti a me e a molti di noi riguarda già da ora ai parlamentari certamente riguarderà loro le loro famiglie e quindi è un tema unitivo bisogna farli commissariare dalla chiesa diciamo per per raggiungere l'unanimità allora pagnoncelli senta ci faccia un quadro intanto il paese può permettersi di creare un oscudo sociale agli anziani quando ci sono tanti giovani in una condizione di precarietà più volte abbiamo detto la coperta corta no togli risorse a una generazione le dai all'altra sì è vero però i due temi non si non si escludono voglio dire in un paese civile è giusto che i giovani abbiano il diritto del lavoro il diritto di portare a terra i loro progetti di vita di uscire per esempio dalla famiglia di origine ma questo non significa non si debba dedicare attenzione a un gruppo sociale di 14 milioni di persone costituito dalle persone di oltre 65 anni che non è un gruppo ovviamente coeso perché in questo gruppo ci sono persone che hanno bisogni molto diversi sono i non autosufficienti ma ci sono persone perfettamente in salute magari uscite dal mondo del lavoro che sono a ricerca di un ruolo nella società quindi un paese civile deve occuparsi dei suoi abitanti delle persone indipendentemente dalla collocazione che hanno non mettendo in competizione i gruppi sociali e allora come affrontate il problema la legge delega cosa dice la legge delega affronta il problema in una maniera nuova ea dire che per la prima volta noi riteniamo che l'intera società italiana a partire dal governo le amministrazioni il terzo settore si fa carico dei 14 milioni di anziani aiutandoli a seconda delle necessità che man mano arrivano partendo però dalla domiciliarità gli anziani debbono restare tutti a casa loro tutti diciamo c'è una visione complessiva del fenomeno non è a pezzetti non c'è la sanità esattamente infatti il problema per cui finora la condizione degli anziani era drammatica perché c'era una divisione radicale tra sociale e sanitario per cui l'assistenza domiciliare agli anziani significava 17 ore di infermiere l'anno ma gli anziani non hanno bisogno solo di iniezione hanno bisogno di compagnia di aiuto di accompagnamento pagnoncelli che visione hanno gli italiani di questo problema innanzitutto hanno consapevolezza e tendono addirittura a dilatare la portata del fenomeno pensate che dicevo prima le persone di oltre 65 anni sono quasi un quarto della popolazione proprio del 23 per cento 14 milioni quando noi chiediamo secondo lei quante sono le persone di oltre 65 anni la risposta media dei mille rispondenti è 48 per cento come se uno su due avesse più di 65 anni indubbiamente però al di là delle percezioni distorte c'è un problema di solitudine e allora lo vediamo con il cartello 60 abbiamo chiesto quanto è diffuso il problema della solitudine nel nostro paese vedete il dato parla da sé l'83 per cento ritiene che la solitudine sia molto abbastanza diffusa in italia è chiaro che la solitudine anche una condizione psicologica lo vediamo con cartello 61 chiediamo le capita mai di sentirsi solo questa ovviamente una domanda posta all'intero campione anche i giovani vedete che quasi uno su due dice sì mi capita mentre solo uno su tre dice mai o quasi mai però attenzione quali sono le categorie considerate più esposte al rischio solitudine lo vediamo col cartello 62 qui gli intervistati potevano indicare più di una categoria evidentemente lo vedete con il cartello 62 appunto gli anziani primeggiano col 60 per cento delle risposte e poi sono sole le persone che sono in condizioni di marginalità economica di povertà 29 per cento o che soffrono di problemi come la depressione problemi mentali o la disabilità e così via quindi ci sono tante solitudini però sono gli anziani i vertici di questa graduatoria ecco tra l'altro monsignore l'italia diventa poi serviranno i decreti attuativi per fare la regolamentazione però diventa la prima nazione che si occupa di questo fenomeno globalmente diciamo come un fenomeno di massa ed è un grosso vantaggio anzi dobbiamo esserne orgogliosi perché l'italia è il primo paese europeo per vecchiaia secondo al giappone nel mondo e per la prima volta un paese come l'italia ha avuto l'audacia di inventare di creare una nuova legge che ripensa radicalmente questi 20 30 anni in più che ci sono stati dati dallo sviluppo però fino ad ora 30 anni in più ma a volte erano 30 anni di tristezza di solitudine e di abbandono non sarà più così non solo quantitativo ma anche qualità assolutamente e noi anziani finalmente in italia possiamo dire possiamo invecchiare bene e non andare altro senta fagnoncelli lei tra l'altro ha fatto il servizio civile assistendo agli anziani abbiamo scoperto quindi ha una conoscenza al di là della conoscenza della società italiana ma anche dei problemi pratici vengono inquadrati da questa legge sicuramente sì il tema della domiciliarità secondo me è il tema fondamentale per affrontare questo tema perché dico questo io appunto nella mia esperienza più di 40 anni fa tra l'81 83 facevo servizio civile mi occupavo solo di anziani facevo loro le faccende domestiche mi occupavo di accompagnarli alle visite facevo la spesa facevo ecco però loro avevano come dire un punto di riferimento che non era solo occasionale non era solo come diceva monsignor paglia l'infermiere che va e fa la puntura va benissimo e per carità però non è questo il tema e poi in realtà io ricordo nella mia esperienza parte che la mia tesi di laurea era appunto sulla legislazione regionale lombarda che si occupava di anziani appunto e era interessante notare che in quella stagione si incominciava a ragionare da questo punto di vista cioè lasciare le persone nel loro habitat a casa loro però far sì che anche le persone le altre persone abbiano una relazione io ricordo anche un'esperienza al termine del mio servizio civile feci un'indagine guardate la mia prima indagine feci per misurare quelli che erano i bisogni degli anziani del comune in cui un comune montano in cui io svolgevo servizio civile a partire da quell'indagine reclutammo dei giovani pensionati prevalentemente artigiani e quindi idraulici falegnami elettricisti e così via che andavano ad assistere ad aiutare gli anziani che viceversa non sapevano a chi rivolgersi quando avevano problemi di questo tipo quindi si tratta di mettere in relazione le persone nell'ambito in cui vivono e la rete sempre la chiave tra l'altro un signore questa legge prevede che vengano monitorati no che vengano che vengano gli anziani si soprattutto la da 80 anni in su e tutti gli anziani tutti i cittadini anziani italiani verranno visitati uno o due volte l'anno da un un'equipe medica in modo che nessuno sia lasciato solo o peggio scartato le rsa le residenze sanitarie le rsa devono cambiare radicalmente e a dire che devono far parte di quello che noi chiamiamo il continuum assistenziale la domiciliarità è primaria ci sono poi possibilità di co-housing centri di urni centri semi residenziali poi anche lungodegenze ma visitabili e temporanee sono i caregiver i caregiver sono coloro che si occupano degli anziani sia i familiari sia anche speciali operatori per esempio la legge ne prevederà almeno centomila in cinque anni che possano accudire giorno e notte gli anziani nel loro caso soprattutto i non autosufficienti è un grande disegno che a mio avviso pone davvero una la realizzazione di un sogno che è quello che si possa invecchiare davvero non in solitudine e non in cristianza non resta che una domanda monsignor paglia quanto ci costa è facibile ci costa guardi meno di quello che noi pensiamo le faccio un esempio istituzionalizzare gli anziani per esempio in ospedale o nelle pronti soccorsi 720 euro l'anno a casa costeranno 50 o in alcune parti 70 o 100 euro si risparmiano miliardi per questi ricoveri impropri gli ospedali dovranno fare gli ospedali e il continuum assistenziale con meno risorse anzi con i risparmi ottenuti fa stare meglio anche gli anziani grazie monsignor in bocca al lupo buon lavoro nando paglionselli resta con noi